Vieni, 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 vai, sempre Sibilla, adesso via, Sibilla, Lola, Sibilla, Magilla, ciao, come ti chiami? Lola, ti chiami il microfono? Allora, per me, grazie, per tutte le emozioni, grazie, grazie, una domanda stupida, mimma, e ti rendi conto di tutto quello che voi avete mosso? Più o meno, a parte perché non abbiamo tanto tempo per rendersene conto di questo assurdo, eccetera, sappiamo che i popoli ci rispondono le persone, però proprio noi personalmente non abbiamo tanto tempo, quindi noi riusciamo a capire più di questo punto, cioè tutto il movimento non vi arriva al 100%? A 100% purtroppo no, però è un'altra domanda quando farlo usare l'internet così viene a trovarci Sono negata! Non ce lo facciamo noi al corso? Va bene, comunque grazie